Un momento, un previsto. Perfetto, buonasera, siamo qui in compagnia di Maria Piatimo al Teatro dei Micheli. Questa sera in anteprima lo spettacolo intitolato Soldi... Soldi, soldi, va di me con per ridere laddove ci sarebbe da piangere. Ecco, questa sera abbiamo anche riso però, eh, non soltanto piangere. Poteva aver bruciato tanti soldi, però vi lasciamo l'attesa in anteprima. I soldi li ho bruciati io, il pubblico non li ha bruciati, è stato contento di essere venuto. Sembra che, sembra che... Quindi, prossime news? Sono il 18 marzo a Santa Sofia con lo spettacolo Il Ballo, con l'orchestra, la Folk Popular Orchestra di Mirko Casadei. Poi sono il primo aprile a Predappio, di nuovo con Soldi, soldi. La seguiremo. E poi l'altra non me la ricordo, però se cercate sui socials li trovate tutte. Seguite sui socials. Trovate tutte sui socials. Ecco, Maria Piatimo. Devi tirare più su, se no si vede doppio mento. Capito, bravo, così, vedi come siamo più giovani, come siamo più giovani. Basta te, me l'ha insegnato Belen, devi tenerlo alto. Ancora più così. Belen li va tutti così. Ma siamo più belli così. Sì, sì, stai su, sembra brutta Belen. Facciamo schifo. Arrivederci, ciao a tutti. Ciao ragazzi. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.